Un progetto che casualmente si chiama il progetto della felicità. Il tour della felicità sarà un viaggio in camper attraverso i luoghi più significativi del nostro bellissimo paese. Tra città e campagna, tra mare e colline, la carovana LOP si sposterà da nord a sud per condividere e diffondere messaggi di allegria ed amore. La presentazione del libro, che avverrà in alcune delle più belle piazze italiane, sarà solo la punta dell'iceberg di una serie di iniziative basate sull'interazione con le persone per offrire una diapositiva reale della situazione post-mandemica. Unisciti anche tu al tour della felicità. Unisciti anche tu al tour della felicità.